Siamo alla musica, è tornata a suonare il prestigioso organo del Duomo San Matteo Apostolo di Asiago dopo un impegnativo restauro con il concerto del maestro Simone Geller si è chiusa la rassegna dedicata al compositore tedesco Johann Sebastian Bach. Sara Baroviere. Duomo di San Matteo, Asiago, è l'ultimo concerto della rassegna incontrando Johann Sebastian Bach iniziata lo scorso ottobre e promossa dall'amministrazione comunale di Asiago è il concerto per organo eseguito dal maestro Simone Geller la rassegna monotematica su Bach è stata una sorta di viaggio ideale attraverso le opere di uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi e ha restituito nella solennità del Duomo di Asiago lo spirito del compositore tedesco, tormentato ma sostenuto dalla grande fede religiosa un ciclo di concerti che sono stati anche l'occasione per apprezzare la nuova vita del prestigioso organo ruffatti del Duomo San Matteo Apostolo dopo un impegnativo restauro grazie a tutti